Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Buonasera e bentornato sul canale YouTube rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli che è collegato al canale YouTube Blue Voice Live e al gruppo Facebook alla ricerca dell'agnosi al quale puoi chiedere gratuitamente l'iscrizione. Domani è il 15 di agosto e quindi ho pensato di percorrere con te un piccolo viaggio affascinante sul suo significato esoterico ed anche sulle sue connessioni, come puoi leggere dal titolo, con le energie solari e lunari. Quindi, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti gratuitamente al mio canale per non perdere anche i video futuri e soprattutto per esplorare i contenuti precedenti che trattano dei temi altrettanto profondi e interessanti. Dunque, Ferragosto. Ferragosto, come sappiamo, è celebrato il 15 di agosto e ha origini molto antiche che risalgono all'epoca romana. Sappiamo che fu istituito dall'imperatore Augusto nel 18 avanti Cristo con il nome di Ferie Augusti che vuol dire riposo di agosto Queste festività, questa festività commemorava le vittorie militari di agosto ma segnava anche la conclusione delle campagne estive e dei lavori agricoli Il nome stesso della festività rifletteva proprio l'importanza di una pausa e anche quella, quindi, di celebrazioni pubbliche dopo le fatiche estive Sappiamo che i romani erano soliti festeggiare molto sia in tempo di guerra che di post-guerra proprio per augurio e per celebrare le sue vittorie Ora, le Ferie Augusti erano caratterizzate da diversi festeggiamenti che includevano giochi che includevano eventi pubblici e rimasero una parte fondamentale del calendario romano fino, chiaramente, alla caduta dell'impero romano d'Occidente che avvenne nel 476 d.C. Cosa accadde dopo il crollo dell'impero? Accadde che questa festività si trasformò come tante altre integrandosi con la celebrazione cristiana dell'assunzione di Maria Ma entriamo meglio nel dettaglio del significato proprio esoterico e delle tradizioni a lui collegato Allora c'è da dire che Ferragosto rappresenta il culmine dell'estate e quindi il massimo splendore solare ecco che questo periodo va visto come un'opportunità di equilibrio e di trasformazione A tal proposito nella tradizione alchemica il sole che cos'è? È proprio il simbolo di trasmutazione ed anche quindi di purificazione Io intanto vedo che qualcuno scrive Ah interessante Max Stirner grazie per il tuo contributo Dice la conclusione dei lavori agricoli perché si coltivavano solamente graminacee invernine ma con l'introduzione del mais e della soia non c'è mai pausa l'annata agraria perpetua Eh già il mondo è in profonda trasformazione continua e lo vediamo tutti i giorni Ma tornando a noi gli alchimisti medievali quelli che sono stati ben descritti nei testi di Flamel e anche di Paracelso consideravano il sole come il principio solare che era associato al calore era associato alla luce entrambi necessari per trasformare la materia grezza in oro spirituale ecco che il ferragosto che è il culmine estivo diventa quindi un momento di riflessione e di preparazione ai cambiamenti futuri ma vediamo come è descritto il sole nella tradizione ermetica avrete letto il corpus ermetico ermeticum di ermete trismegisto e saprete che il sole è descritto come il cuore dell'universo infatti secondo ermete il sole è la fonte di vita è sì luce è sì calore ma è anche il centro spirituale da cui emanano le energie che animano il cosmo e su questo credo che la fisica non possa che confermarlo chiaramente però la visione ermetica colloca il sole non solo come un oggetto celeste ma come un principio divino quindi che irradia saggezza che irradia vitalità a tutto ciò che è che esiste ed è attraverso il sole che il mondo visibile e il mondo invisibile sono connessi creando così un ponte tra il terreno e il celestiale non ci discostiamo troppo quando affrontiamo la tradizione ignostica dove infatti il sole è visto come simbolo del pleroma o pleroma che è proprio il regno della pienezza divina secondo quanto possiamo leggere nei testi di Valentino e di Basilide gli ignostici consideravano il sole come il logos ricordate il Vangelo di San Giovanni in principio era il logos la parola il logos come intelligenza divina che che illumina l'oscurità del mondo fisico del mondo materiale ora ricordiamo che era Valentino Valentino fu un influente teologo ignostico del secondo secolo e fu lui che sviluppò quel sistema di pensiero che enfatizzava la discesa del Cristo come salvatore capace di riportare l'umanità dal mondo materiale proprio al pleroma Basilide Uguale fu anche lì un importante pensatore ignostico del secondo secolo e fu colui che fondò una delle prime diagnostica ad Alessandria predicando un sistema complesso che vedeva nell'agnosi ovvero nella conoscenza la chiave per la salvezza dunque ecco che il ferragosto ovvero questo periodo di massima luminosità solare riflette proprio l'idea della luce che penetra l'oscurità offrendo così la connessione più profonda con il divino parlando di gnosticismo non posso che affrontare anche la visione in un contesto martinista che è una tradizione esoterica fondata da Martinez de Pascal ecco che qui il sole è visto come un principio di illuminazione spirituale infatti il martinismo si concentra proprio sul risveglio spirituale e sull'illuminazione dell'anima attraverso l'energia solare quindi il ferragosto come culmine estivo rappresenta un momento di maggior chiarezza spirituale un momento di preparazione per gli ulteriori avanzamenti nel cammino esoterico non è tanto diversa la tradizione teosofica fondata fornita scusate da Elena Blavatsky infatti c'è un'interpretazione del sole come simbolo di illuminazione e di conoscenza divina anche che la teosofia considera il sole come un simbolo del logos di un logos cosmico e del principio spirituale che guida l'evoluzione umana quindi anche in questo caso il ferragosto per un teosofo potrebbe serenamente essere visto come un momento di riflessione e di connessione con le energie cosmiche superiori sapete che dall'antroposofia è nata scusatemi dalla teosofia è nata l'antroposofia che fu sviluppata appunto da un ex teosofo da Rudolf Steiner che ha ritenuto il sole non solo non solo come un principio di illuminazione e crescita ma anche come un piano di evoluzione spirituale steiner 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 nella sua visione reputa che il sole rappresenti la fase di elevazione dell'umanità attraverso proprio il suo ciclo evolutivo per cui ogni pianeta inclusi luna e sole è associato a fasi specifiche della crescita spirituale dell'uomo e in particolare il sole è visto come una forza che guida l'umanità verso una maggiore coscienza e una migliore comprensione spirituale ecco che il sole nell'antroposofia che comunque sappiamo essere una dottrina di primi anni del ventesimo secolo occupa un ruolo centrale un ruolo anche abbastanza complesso infatti il sole non è visto solo come un astro fisico ma come una vera e propria entità spirituale quindi come un centro di forze cosmiche che influenzano l'evoluzione dell'umanità e non solo proprio dell'intero universo infatti secondo Steiner il sole è un'entità di altissimo rango che è associata a esseri spirituali di livello superiore noti come serafini e cherubini infatti questi esseri sono considerati i custodi i mediatori delle forze solari quindi irradiano luce irradiano calore irradiano vita non solo nel senso fisico ma anche spirituale tant'è che il sole nell'ottica antroposofica è anche un punto focale del Cristo cosmico e Steiner sostiene che l'evento della discesa del Cristo sulla Terra che come sappiamo è culminato con il mistero del Golgotha ovvero la crocifissione abbia avuto proprio un'importanza cosmica che va oltre la storia umana perché prima di incarnarsi in Gesù il Cristo era strettamente associato al sole ed è attraverso il sole che continua ad irradiare le forze spirituali che supportano che sostengono l'evoluzione umana ma cosa fa Steiner va anche oltre perché descrive l'evoluzione dell'universo attraverso una sequenza di stati di coscienza che lui denominò incarnazioni planetarie vi do una panoramica veloce su queste incarnazioni sulle sue fasi perché sono sette fasi e sono comunque interessanti anche a livello culturale insomma per me è necessario per chi è interessato all'esoterismo e alla spiritualità vera consapevole allora secondo Steiner queste incarnazioni appunto includono delle fasi che sono la prima è l'antico Saturno che era una fase quindi proprio come pianeta una fase dove non esisteva ancora la materia così come la conosciamo quindi tutto era uno stato un puro stato di calore primordiale quindi gli esseri umani erano esseri di calore in una fase chiaramente molto embrionale dall'antico Saturno andiamo all'antico Sole e qui è dove appare per la prima volta il principio della luce e della vita ecco che il Sole come entità spirituale inizia ad irradiare la sua luce portando con sé la vita e in questa fase gli esseri umani sono in uno stato di corpo eterico ossia una sorta di involucro di energie vitali all'antico Sole segue l'antica Luna e in questa fase si forma il principio del corpo astrale che è quello legato alle emozioni ai desideri ecco che la Terra inizia a separarsi dalla Luna ed è questo un processo che ripara proprio la strada per attuare lo stato della Terra attuale che è proprio la fase che segue infatti qui siamo proprio in questa fase evolutiva proprio oggi 14 agosto 2024 dove l'essere umano sviluppa la coscienza dell'io e anche la capacità di pensare in modo autonomo quindi viviamo una fase storico esoterica estremamente interessante ma cosa accadrà dopo accadrà il futuro Giove che è una fase di evoluzione superiore dove la coscienza morale e la saggezza saranno finalmente integrate nella vita umana a questa seguirà poi il futuro venere ossia una fase di grande armonia dove gli esseri umani raggiungeranno una comprensione spirituale importante un amore universale per poi giungere allo stadio finale che è il futuro vulcano che porterà a che cosa porterà all'unificazione di tutte le esperienze e conoscenze accumulate nel corso delle fasi precedenti il che condurrà l'umanità ad uno stato di chiamiamolo perfetta spiritualità quindi in antroposofia tornando a noi il sole è anche simbolo del corpo di luce o corpo eterico che come abbiamo visto l'umanità svilupperà pienamente nel futuro ecco che questo corpo eterico sarà più legato alla luce che alla materia che alla fisicità permettendo così all'uomo di esprimere le sue qualità spirituali in modo più diretto più vero quindi il sole rappresenta la luce interiore rappresenta la saggezza che ogni individuo può sviluppare per evolversi spiritualmente poi dovrei aggiungere anche che Steiner ha collegato il ciclo annuale del sole con le quattro feste principali esoteriche dell'anno la Pasqua il San Giovanni il Michele il Natale ma insomma andiamo un po' fuori tema l'importante è cogliere cosa reputa sia il sole per l'antroposofia quindi questo principio di illuminazione questa rigenerazione che guiderà l'uomo proprio attraverso le diverse fasi dell'anno e quindi dell'evoluzione umana quindi il sole come guida no? come simbolo dell'evoluzione ora abbiamo delle tradizioni più antiche che sono quelle egiziane che sono quelle ebraiche e che offrono degli spunti fondamentali che hanno dato vita anche alle teorie derivanti successivamente alle dottrine anche del nostro secolo sappiamo che nella mitologia egiziana il sole è rappresentato da Ra che è proprio il dio del sole e che era il sovrano dell'universo e simbolo di rigenerazione ovvero di vita cosa fa Ra? secondo la mitologia egiziana Ra viaggia attraverso il cielo e questo accade durante il giorno ma viaggia anche attraverso il regno dell'oscurità durante la notte ecco che questo duplice viaggio rappresenta il ciclo eterno della vita il ciclo anche della morte e soprattutto il ciclo della rinascita ricordo che nei testi delle piramidi dell'antico dell'antico egitto il sole è identificato con l'occhio di Horus che è un potente simbolo di protezione di guarigione di regalità ecco quindi l'occhio di Horus che rappresenta il sole è il mezzo attraverso il quale era il mezzo attraverso il quale il faraone manteneva l'ordine cosmico conosciuto come Maat questo simbolo poi è anche connesso alla rinascita alla risurrezione il che riflette proprio il viaggio giornaliero del sole attraverso il cielo e come abbiamo visto la sua immersione nel mondo sotterraneo durante la notte quindi il sole occhio di Horus non solo illumina ma garantisce la continuità della vita quindi sostiene l'equilibrio dell'universo tutte queste tradizioni hanno la sua derivazione anche nella Shekinah che è simbolo proprio del sole nella tradizione ebraica è proprio la presenza divina la presenza luminosa di Dio che sfavilla nel mondo chiaramente anche se non è direttamente associato alla celebrazione di Ferragosto la luce del sole è vista come un riflesso della luce divina che guida che illumina l'umanità Franco scrive buonasera a lei o a te la luce solare è energia intelligente e psichica esatto la sua frequenza vibrazionale determina lo sviluppo dimensionale degli esseri viventi Già lo ritengo corretto lo ritengo più che vero ora la parola Shekinah deriva dall'ebraico Shakan che significa abitare dimorare e quindi la Shekinah è proprio la presenza immanente di Dio che dimora essendo una tradizione israeliana tra il popolo di Israele chiaramente accompagnandola attraverso quelle che sono le sue vicissitudini storiche le sue vicissitudini spirituali e tra l'altro è descritta molto spesso come una luce radiosa o come una nube molto luminosa che proprio manifesta la gloria di Dio nel mondo materiale ma nella tradizione cabalistica la Shekinah è anche associata alla sefirah di Malcut che nell'albero della vita rappresenta il regno della manifestazione fisica e anche la porta di entrata e di ingresso delle influenze divine nel mondo quindi Malcut che è comunque la sefirah più bassa in realtà è anche quella in cui la luce divina si riflette per illuminare e per nutrire l'universo quindi la Shekinah è vista come la luce che collega l'infinito hands off con il mondo materiale rendendo visibile l'invisibile e permettendo all'uomo proprio di percepire la presenza divina quindi in questa cornice simbolica il sole con la sua luce con il suo calore diventa un potente simbolo della Shekinah quindi il sole illumina il mondo scaccia le tenebre dona la vita in modo simile alla Shekinah che illumina le anime che guida l'umanità verso Dio e questo e questo parallelo si riflette in molte preghiere ebraiche e nelle benedizioni quotidiane israeliane dove la luce è spesso associata alla bontà e proprio alla presenza divina per esempio nella benedizione delle luci del sabato lo shabbat si accendono le candele per simboleggiare la Shekinah che entra nella casa che porta pace che porta santità quindi anche se il sole non è esplicitamente ricordato menzionato in questo rito la luce delle candele richiama simbolicamente la luce solare che rappresenta quindi la continua benedizione nella continua protezione di Dio ora sebbene ferragosto non sia una festività ebraica come sappiamo il concetto di Shekinah può essere collegato al ciclo solare annuale ogni fase del sole dal solstizio d'inverno al solstizio estivo può essere vista come una manifestazione della Shekinah che ciclicamente illumina nutre l'universo e in particolare i giorni estivi quindi quando il sole è più forte possono essere interpretati come un periodo in cui la Shekinah si manifesta e si manifesta con maggior potenza portando vita portando abbondanza mi piace poter fare anche una similitudine poter fare anche un collegamento con i Ching che sappiamo è l'antico testo cinese per antonomasia dove il sole è associato al principio maschile attivo ovvero lo Yang no? Ying e Yang principio che rappresenta l'energia creativa il potere dell'azione la forza di volontà infatti secondo Li Ching il Li Ching Li Ching il sole è proprio il simbolo della forza vitale che spinge l'universo in avanti che sostiene la crescita il cambiamento la trasformazione e torniamo alla trasmutazione alchemica ecco che il sole Yang è visto come l'impulso primordiale che porta all'evoluzione continua della realtà ma arriviamo ai tempi nostri nel 2024 Ferragosto si avvicina alla luna piena del 19 agosto fra 5 giorni la luna piena e questo allineamento lunare è particolarmente significativo dovete sapere che nella tradizione pagana la luna piena di agosto è conosciuta come la luna del grano e simboleggia proprio il raccolto l'abbondanza e ci sono vi erano delle celebrazioni come il Lugnazad che è scritto Lugnazad mi sembra riflettono questi temi di abbondanza di bilancio e questo diventa un momento ideale per meditare sui risultati ottenuti sulla preparazione della fase successiva la luna piena è vista come un momento di manifestazione di culminazione e questo accade in molte tradizioni esoteriche infatti nella magia lunare e nella tradizione esoterica occidentale la luna piena è considerata proprio un momento di grande potenza per realizzare intenzioni e riflessioni ci sono tra le varie conoscenze di noi esoteristi quella forse è diventata anche più nota ahimè no ahimè per fortuna insomma purtroppo portata avanti della new age che è quella proprio di camminare durante i giorni di luna piena sui campi e e assorbire la luce della luna il che permetterà un sonno meditativo interessante un astrale molto molto utile ora sappiamo che anche in astrologia la luna piena rappresenta il momento in cui le azioni in cui le decisioni iniziate durante la luna nuova il nuovi lunio raggiungono il loro apice quindi è un periodo di illuminazione in cui vengono rivelati i risultati delle nostre scelte periodo in cui possiamo vedere con chiarezza la direzione del nostro cammino quindi capite che nel contesto di questo ferragosto quindi del 2024 a 5 giorni di distanza tra il 15 e il 19 la vicinanza alla luna piena accentua l'importanza di questo tempo di riflessione quindi una riflessione sui successi una riflessione sulle sfide affrontate durante l'anno tutto questo può offrire un'opportunità per allineare le nostre energie interiori con quelle cosmiche quindi per creare questa connessione divina il che tra l'altro incentiva anche a trovare un equilibrio tra quello che è il nostro impulso all'azione e il bisogno di introspezione infatti se il sole ci spinge verso l'espansione sappiamo che la luna ci richiama alla connessione interiore alla contemplazione quindi capite che questa combinazione di energie rappresenta un momento unico per esplorare i nostri successi per meditare sulle nostre intenzioni future per prepararsi ai cambiamenti che verranno è veramente molto molto interessante questo momento è un momento esoterico ricco di significati profondi che ci invitano a connetterci con le forze cosmiche e quindi spirituali eh oddio sono 37 minuti quasi che parlo e credo di avervi annoiato abbastanza mi auguro che queste riflessioni sulle tradizioni generali esoteriche vi abbiano interessato in realtà e e che questa piccola esplorazione del significato esoterico del ferragosto vi abbia offerto delle nuove prospettive dei nuovi spunti di riflessione io me lo auguro proprio per i motivi di cui abbiamo parlato per l'importanza di questo momento che da domani prenderà vita quindi buon ferragosto pieno di luce pieno di equilibrio e strapieno di connessione spirituale a presto e mi auguro che questa modalità di live vi possa piacere e possiate poi ascoltarla se non riuscite tutta nei giorni che seguiranno a presto ciao 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 Grazie a tutti